Come si definisce il successo? Prima di definire il successo per voi stessi, dovreste fare un elenco di ciò che il successo rappresenta per voi e per la vostra famiglia. Poi, fate un elenco di passi concreti che potete compiere per raggiungere il successo. Ad esempio, se il vostro successo consiste in una carriera ben retribuita, i passi possibili potrebbero essere quelli di approfondire la vostra istruzione o formazione professionale. Oppure, se vedete il successo in un talento inespresso come la scrittura, allora i passi potenziali potrebbero includere l'implementazione di obiettivi di scrittura giornalieri o settimanali per alimentarlo. Non c'è un modo giusto o sbagliato per avere successo, ma ci sono dei passi che potete fare per avere più successo in base alla vostra definizione di obiettivo. Tradotto con www.dpelle.com barra translator, versione gratuita. Consigli per il successo Ecco un elenco di 10 consigli per aiutarvi ad avere successo nella vostra vita. 1. Impegnarsi Grazie all'impegno, si può ottenere la motivazione per perseguire il successo. Dovreste stilare un elenco che includa il vostro obiettivo, il vostro livello di impegno per raggiungerlo e ciò che siete disposti a fare per raggiungerlo. Rimanere concentrati sul proprio piano è fondamentale. È utile dedicare almeno 15 minuti al giorno per pensare al proprio piano e lavorare per raggiungerlo. In questo modo l'obiettivo rimarrà fresco nella vostra mente e potrete continuare a concentrarvi su di esso. Nel determinare l'impegno verso l'obiettivo, tuttavia, è importante assicurarsi di avere aspettative realistiche su se stessi e sul risultato. Se dopo un certo periodo di tempo il vostro impegno non dà i suoi frutti, dovrete modificare l'obiettivo di conseguenza e rivedere i passi necessari. A volte può essere utile chiedere a un amico o a un familiare di aiutarvi a rispettare i vostri impegni. Avere qualcuno che vi ritenga responsabili delle vostre mancanze e che elogi i vostri successi può aiutarvi a mantenere il vostro impegno. 2. Imparare dal viaggio. Piuttosto che concentrarvi esclusivamente sui risultati ottenuti, prestate attenzione ai piccoli passi necessari per raggiungere il successo. Se vi permettete di godere di piccole vittorie lungo il vostro percorso, il raggiungimento del vostro obiettivo diventerà ogni giorno una nuova avventura e sarete più propensi a rimanere incarreggiata. In questo modo, imparerete cose nuove e stimolanti lungo il percorso, che vi aiuteranno a crescere come persona. 3. Divertirsi lungo il percorso. Se il viaggio per raggiungere un obiettivo diventa troppo noioso, sarà più difficile riuscirci. Imparare ciò che si è capaci di fare può essere divertente ed emozionante, quindi è importante mantenere gli obiettivi leggeri e divertenti per vivere un'esperienza emotivamente positiva e continuare ad andare avanti senza perdere la prospettiva. 4. Pensare in modo positivo. Sviluppare una mentalità positiva significa avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità di successo. È importante sostituire i pensieri negativi con quelli positivi per motivarsi a continuare a provare, indipendentemente dalle sfide che si presentano. Pensate a quando i bambini imparano a camminare. Non si fermano quando cadono. Si rialzano e continuano ad andare avanti, finché un giorno possono muoversi, e presto correre, con facilità. Nel vostro percorso verso il successo, è probabile che impariate cose nuove e pensiate in modo diverso da prima. I vostri obiettivi non si realizzeranno da un giorno all'altro. Ci vorranno pratica e disciplina per raggiungerli, quindi è fondamentale pensare al processo in modo positivo. 5. Cambiare prospettiva. A volte, durante il viaggio, è necessario cambiare prospettiva per trasformare una situazione difficile in una migliore. Quando avete una giornata o una settimana difficile, immaginate invece che sia una giornata o una settimana positiva. Datevi l'opportunità e il tempo di pensare alla vostra situazione usando solo un linguaggio positivo e vedrete come cambierà la vostra giornata o settimana. Se lo fate per un periodo di tempo prolungato, potreste cambiare tutta la vostra vita. 6. Siate onesti con voi stessi. Se vi accorgete che il vostro obiettivo è in fase di stallo, dovrete essere onesti con voi stessi sul perché di questa situazione. Dopo aver raggiunto una comprensione, cercate di trovare una soluzione per spingervi verso il successo. Sfidate voi stessi a uscire dalla vostra zona di comfort. Ciò potrebbe significare una serie extra di squat, parlare con un supervisore di una promozione o persino iscriversi a un corso universitario difficile che non avevate considerato prima. 7. Eliminare le distrazioni. Fate un elenco delle cose della vostra vita che vi rubano tempo o vi distraggono. Potrebbe trattarsi del telefono, di un programma televisivo o anche di una persona che vi causa stress. Spegnete il telefono e mettetelo in un'altra stanza quando è il momento di concentrarvi sul vostro obiettivo. Spegnete la televisione e mettete il telecomando dall'altra parte della stanza. Mantenete i contatti solo con le persone che hanno un impatto positivo sulla vostra vita. È il momento migliore per iniziare a cambiare le abitudini in modo da potersi concentrare sul raggiungimento del successo senza distrazioni. 8. Contare su se stessi. Non potete contare su altri per raggiungere i vostri obiettivi al posto vostro. Il vostro migliore amico non può seguire un corso al posto vostro. Vostra madre non può farvi ottenere una promozione. Il vostro partner non può perdere peso al posto vostro. Sono tutte cose che dovete fare da soli. Può essere utile affidarsi agli altri per avere un sostegno emotivo, ma così come voi avete le vostre esigenze, anche i vostri amici e familiari hanno le loro. È importante che vi responsabilizziate per raggiungere i vostri obiettivi e rendervi felici. 9. Continuare a pianificare. Quando lavorate sui vostri obiettivi, attenetevi a un programma. Datevi delle sfide in base al vostro calendario personale, ad esempio, correrò un miglio in 7 minuti entro la fine del mese o risparmierò 5.000 dollari entro la fine dell'anno. Anche se non raggiungete l'obiettivo, avrete il punto di partenza nel vostro calendario e vedrete i vostri progressi. Se pianificate i vostri obiettivi e li tracciate in un calendario, avrete sempre la prova dei vostri progressi. Avere qualcosa di tangibile è una grande motivazione per continuare a lavorare verso il successo. 10. Evitare di bruciarsi. È importante concentrarsi sul proprio obiettivo, ma senza ossessionarsi. Mantenere il viaggio produttivo ma anche divertente vi garantirà la motivazione senza sovraccaricarvi di lavoro. Stare sempre seduti a pensare al proprio obiettivo può causare un esaurimento. Il vostro obiettivo, che prima era divertente, diventa più una cosa da fare che da desiderare. Continuate a scoprire quanto potete crescere e raggiungere per evitare di bruciarvi.